buonasera e benvenute da martina e giusi che sta al lavoro dietro di www.mochimaggi.it www.mochimaggi.it negozio di hobbistica online con magazzino a roma quartiere roma est prima diretta live tic toc dice che facciamo da faccio vedere qualche fustella ma però come si gira qua cosa giusi andiamo a vedere come si è girata la telecamera tic toc ho trovato trovato ecco qua la nostra parete di fustelle è in uno schermo non c'è sta tutta ora andiamo a vedere un po pelvolta iniziamo da su qua principalmente sono fustelle bx l e standard che vanno bene vanno bene per tutte le big shot tranne la sidekick che sarebbe piccolina cavallucci a dondolo carinissimo se può pure cucire in botti questi sono nuovi per esempio le animaletti del bosco cioè il neon che mi fa un po di riflesso questo in basso c'è tutta la linea de foglie rami con foglie in alto sono principalmente animaletti baby framenicucci ciao sotto ci abbiamo la mia linea preferita cioè quella dei fiori vedete la rosa la pianta succulenta piantina grassa papavero crisantemo quattro fiori frastagliati di team molds fiore con perforature infatti questo qua lo usa principalmente chi fa applicazioni no quindi applicazioni sulle borse e quant'altro fustella così questo molto bello c'è dalla foto mi chiese da una lira invece merita secondo me così eccolo poi buca neve questo è nuovissimo è uscito tipo c'è anche un anno questo invece è il fiore più grande che ha fatto la si zix sono tre tipi diversi di petali ecco e vanno in sovrapposizione questa qua invece è una fustella particolare perché oltre a tagliare fiori rami e farfalle dentro ci troverete anche un folder per embossing che se non lavorate la carta non ve spaventate perché io per esempio l'ho usato pure sulla gomma crepla ho scaldato la gomma due millimetri l'ho imbossata e dopo l'ho tagliata è venuta benissimo piena di rilievi e particolari e fa fa questo qui sta fustella è veramente bella poi in buco chissà che c'era questo lo chiamano girasole sempre si zix ma a me mi pare più una gerbera bara margherita eh questo qua invece è un fiore grande tutta la fustella tipo 13 centimetri con effetto in puntura carino questa invece è una delle mie preferite che mi rilassa un sacco falla è l'ortensia a puzzle perché a puzzle perché vedete i petali escono così questi taglietti vanno incastrato l'uno con l'altro e incastrandoli viene automaticamente la sfera dove poi andrete a mettere questo petalo piccolino per far questo effetto qui se non avete capito non vi preoccupate su facebook c'è star tutorial gratis mi sa pure su youtube non lo so poi questo chiamano fiore rustico io lo consiglio per chi lavora la carta è frastagliato è sempre un fiore che va in sola posizione c'è due dimensioni dei petali più un ramo che foglie e il ramo che foglie è interessante questo fiore poi la rosa d'inverno questa è bellissima pure d'estate trittico de roselline questa taglia a spirale come potete vedere taglia a spirale sono tre spirali completamente differenti che mi fanno fare questi tre tipi de rose un altro fiore questo qua potrebbe sembrare una spirale ma spirale non è perché taglia così vedete a cerchio poi questi questa massa comprata l'altro anno facciamo pure il tutorial sempre su youtube e fiori estivi la chiamano in pratica fustellate mille 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 volte questi petali qua che poi andandoli a scaldare si alzano li mettete in sola posizione e vi viene sto fiore qua da foto loro non rende ma in realtà è carino poi abbiamo questa scontata a 15 e 90 questa io pure la consiglio a chi lavora la carta perché è difficile da dire a succo il fommi e poi abbiamo questa che io la amo proprio perché pure questa da foto non rende niente guardate invece guardate che bel fiore grosso e per niente fa stagliato è tutto tondeggiante l'unica cosa è che gli hanno messo sto tulipano che è piatto se avete fa un progetto con tulipano piatto ecco qua però io per esempio amo i fiori tridimensionali diciamo che quattro tre su quattro mi piacciono vabbè poi questa qua non è un fiore ma è un must un classicone infatti come potete vedere guardate è pure diversa la confezione perché questa qua c'è proprio gli anni io questa la consiglio a chi da pochissimo si è fatta a big shot consiglio queste quattro sta fustella perché in una fustella sola trovate quattro formine grandi e quindi accumulate più più formine no poi ci abbiamo frutta e verdura melograno fra con la kiwi cocomero limone arancia e pera però la pera è tonda e sono belli grossi questi eh c'è della serie se dovete fare un portachiave viene un bel portachiave poi cactus grosso quanto la fustella bello alto scatolina coniglietto questa la consiglio solo per pasqua questa qua invece è una taglieri taglia di creativa che noi siamo rivenditrici ufficiali di creativa by marta zanzottera vedete questa costa un po' di più ma diciamo che una fustella così la sizix non l'ha fatta quindi la trovate solo da lei taglia tutti questi petali qua in ripetizione quindi è molto semplice per fare l'ortensia questa comunque a differenza dell'ortensia che vi ho fatto vedere prima puzzle è un'ortensia che ci dovete mettere un'anima dentro cioè quindi ce va una sfera di polistirolo insomma un'anima poi bixelle tim mozza rami con foglie natale comunione porta confetti grande stile porta torta trenino carinissimo coniglio caluna carinissimo pure questa è nuova questa qua invece è un'esclusiva della stafil stafil per chi la conoscesse è ditta leader nel settore so de bolzano tutto made in italy che te lo dico a fa buone feste è una scritta è una scritta che è tutta intera quindi non è che ci avete le le letterine fastidiose staccate è tutta intera e è grossa quindi va bene per le ghirlande per i fuori porta e qua si parla c'è scritto buone feste raga però qua si parla di natale vedete c'è c'è l'agrifoglio corcoso quindi questa qua si parla di natale principalmente e è un'esclusiva stafil quindi chi non vende stafil non c'ha l'esclusiva stafil ok questa è la linea di natale che per il momento sta ancora bassa ma piano piano salirà pinguinetti carinucci io non so che ci vedete voi io ci vedo il maschio e la femmina rennina questa qua è bellissima si può cucire e imbottire fiocco di neve nuovo questa prende tutta la fustella è un fiocco di neve mega galattico sono tipo 13 cm guardate come taglia dettagliato renna elegantina renna stilizzata un po' più bambinesca e arbero di natale che è in sovrapposizione questo qua io noi l'avevamo attaccato all'arbero di natale nostro per esempio ci abbiamo fatto tutti appendini vero Giussi? si eh gnometti non vi lasciate ingannate dalle immagini la barba non vada scritta noel con la O decorata invece che il cerchio è al centro della hoccia avrete l'arbero di natale che è veramente bella questa mini paesaggio natale quindi abbiamo la casetta con l'arberello e la stella che a quanto pare non l'hanno fatta come età babbo natale questo babbo natale è particolare perché è lungo ma è stretto cioè come vi posso dire non è un babbo natale ciccionino eh è lungo e stretto elementi natalizi in una fustella trovate tutti questi quattro elementi e questa è la vecchia vecchia nel senso che c'è stata una cifra la nuova l'upgrade di questa è questa qua sempre quattro elementi ma guardate quanta roba da fustella tanto 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 stella di natale per quanto mi riguarda un po' fastidiosa perché questa qua va cucita dice cucita in che senso nel senso che taglia tutta la linea dritta poi voi col punto firsa entrate uscite entrate uscite entrate uscite tirate e questa si arriccia quindi sconsigliato per chi non sa cucine babbo natale con aiutante del babbo natale questo è uno dei più carini secondo me omino de neve con alberello l'alberello è tutto stortignaccolo e la luna pure stortignacola la cosa che viene da questa fustella è proprio il fiocco de neve e si il fiocco de neve ciao l'omino de neve perché lo taglia tutto insieme quindi uno non si stampa carzetta piccolina sui 10 cm questa qua ce va bene ce va bene metterce le posate eh per la cena di natale e poi è finita natale e si inizia con bassotto e trittico de cuori vediamo se da quest'angolazione vabbè qua ci stanno tutte le metalliche ma manco vi faccio vedere guardate quante sono sarebbe una pazzia metalliche non solo stafil ma pure marian design joy craft creative expression e tanto altro vediamo se ce la faccio a far vedere tutte le fustelle con una botta sola no ragazzi ci arriviamo alla fine è troppo grossa la parete ci si arriva alla fine tutta la selezione di forbici zig zag per feltro queste manco sto raccontando che sono a bomba in titanio tagliano fino a 9 mm di feltro come se fosse burro e vanno bene sia per i testi che per i mancini forbici ufficiali Sizzix Tiffany consigliato per chi lavora la carta sia grosse che piccolette particolari forbici per i particolari stafil che vodica fa sono a bomba proprio questo in titanio ascuccio pistola termica pirografo fabbricatore di pompon questa è una bomba ma costa un po' di più questo va bene e costa un po' di meno sempre fabbricatore di pompon pastelli a olio acrilici ufficiali Sizzix e Folkart Glitter Pucca glitter questo è proprio porporina fina fina guardate questo per l'esempio è oro dark oro dark gold vedete glitter ultra fine 3 grammi vedete a parte oro ma c'avevamo un questo è oro light un ruggine mi sa che è finito belli eh dai che tra un po' arriva Natale su questi sono 3 grammi ultra fine e costano tanto quanto questi che sono morti di più diciamo qua c'è sta il doppio della qualità NL NL questi sono olandesi di più Grazie. Grazie. Per non parlare di tutti i pannelli da tirare di primavera. Allora, con questo è tutto, la prima diretta di TikTok è stata fatta, ci vediamo presto, ciao a tutti, un bacio, ciao da Martina e Giussi di WWW.